Non far spegnere una voce che grida a favore delle donne dei loro diritti da 30 anni. Con questo messaggio la Casa Internazionale delle Donne a Via della Lungara rilancia la campagna di raccolta fondi e presenta i due ricorsi fatti al TAR per far fronte alla procedura di sfratto intentata da Roma Capitale contro il Consorzio. Si inizia davanti a una sala molto affollata mettendo i puntini sulle I e rispondendo alla sindaca Raggi che nei giorni scorsi ha affermato come avere privilegi non sia femminismo. Quest'oggi rilanciamo la campagna per il sostegno della Casa, per il presente e per il futuro. La campagna riflette l'urgenza del nostro appello. Come si sa la convenzione con il Comune di Roma è stata ritirata unilateralmente dal Comune e quindi noi adesso ci troviamo nella condizione di dover arrivare a una transazione che abbiamo già proposto molto tempo fa. Il problema enorme che viene fuori dalle nostre interlocuzioni è un fraintendimento. Noi non abbiamo mai rivendicato privilegi e non abbiamo mai detto che non vogliamo pagare. Vogliamo pagare il giusto però. Qui non si tratta di speculazioni immobiliari. Qui si fanno attività sociali. Peraltro dal Consorzio Casa Internazionale delle Donne è un'associazione di promozione sociale che come scopo statutario non può svolgere attività lucrative. A questa richiesta che ci viene fatta dal Comune chiediamo che vengano comunque quantificate i servizi che vengono resi all'interno della Casa in favore delle donne. Servizi sociali che altrimenti dovrebbero essere resi dall'amministrazione comunale con spese, costi sicuramente maggiori per la comunità perché qui dentro i servizi vengono resi volontariamente. E dopo le moltissime stare d'artisti che si sono schierati a favore di un luogo che ad esempio sopperisce anche alla mancanza di un nido in tutta la zona intorno a Via della Lungara, si attende il risponso del Tar.